Ringattati tu e tua casa semplice, eh? Fulto con scasso in una pellicceria di via Fornovo. Macchina 5 e 7 in via Fornovo. Indossare giù potenti proiettile. Allora. Ecco, appunto. Dunque, io stavo rompendo la seratura di Volkswagen. Bene, quali? L'aveva stata confessa. No, che confessa? Non mi lascia mai finire, scusi. La seratura era automaticamente raccolta... Cosa è successo? C'è giusto! Cos'è che hai combinato? Eh? Hanno sfondato il posto di blocco in via Appia. La macchina dei banditi mi ha colpito prima che potessi reagire. Rifolta dei blocchi al timurtino salario! Due autoambulanti che... Due auto-blindion auto-ambulanti sulla fiampia di volata! E' un mino. Tu cosa fai qua qua? Come ti chiami? Un momento. Mi chiamiamola voi. Una cosa alla volta. Dunque, io lavoro nel ramo furti. Come stasso? Lo sappiamo. No, che ha capito? Nel ramo furti assicurazione. Adesso mi sono messo invece per conto mio. Faccio anche preziosi, pellicce... Piatra, come ti chiami? Pronto! No, no, signor Commissario. Pronto! Il telefono è l'altro, è questo. Rispondete al fuoco! Tra poco vi mandiamo le forze! Aspettate! Comandi? Una pattuglia. Con ambi pesanti. Impiatti in meglio. Terroristi turchi e nazionalisti armeni si stanno sparando contro. Cosa dobbiamo fare? Sparate contro tutti e due. Così imparano. Facciamola finita con questa delinquenza. Allora, basta! Chi sei? Sono milanese. Vuoi prendermi per il culo? No, signor Commissario. Milanese tu con quell'accento? No, veramente io sono pugliese. Allora perché hai detto milanese? Perché mi chiamo milanese di cognome, Valerio di nome. Nato dove? A Torino. Allora sei torinese! No, mio padre era ferroviere, allora si è spostato da una città all'altra. Io sono nato a Torino, però quando siamo tornati a Biceglia, mia madre... Se non lo pianti di dire stronzate, ti sbacco alla ginara! Parola di Commissario Genovese. Ah, lei è genovese? Cazzo dici? Io sono di Bologna, Genovese è il mio cognome. Hai finito sto fermare, siciliano? Signor sì? Siciliano? Palermo-Catania. No, perché esiste una lotta fra le due fazioni che dure da secoli e secoli. Ma no, mi son veneto, veronese. Ah, veronese. Ha capito il Commissario? Basta! Dalla Brescia, Malfitano! Toglietemi dalle palle, sto pugliese di merda! Ma il Commissario, ma per che fa così? Hai un vizio di violata! Vado di città lì! Le potenze si vedono! Io non c'entro in questa situazione. Perché non mi lasciate mai finire un discorso? Avanti, guarda la mano. E che è questo? Cittiri, fai silenzio e non commentare. Avanti. Fingi, fingi, fingi! Con forza! Chi siete, gemelli voi due? Ma veritoso. Come ti chiami? Valerio Milanese, molto lieto. Ma cosa fai? Portatelo subito a fare la foto, via! Non credete, perché credete tutti qua dentro? Mi rindurrete il cervello! Sono visite. Scusa, che devo fare adesso? Stati zitto, che adesso ti faccio una bella foto. Ma io non ho mica ammazzato nessuno, non ho svaliggiato, mica un sequestro di persone. Ciotto, stati zitto! Dove devo guardare? Guarda un poco l'uccellino.